Incidente, presumibilmente avvenuto nella notte, sulla strada che della rotonda della 460 conduce a Pont Canavese, ad essere coinvolta una Fiat Panda che è finita giù per una scarpata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Ivrea e di Cornier, la croce rossa di Pont Canavese, l'ali soccorso 218 e il nucleo radiomobile dei carabinieri. I soccorsi hanno trovato la macchina priva di conducente e hanno iniziato le ricerche. Gli accertamenti sono in corso. Grazie.